ben ragazzi bentornati nel mio canale sono lollo 97 station e oggi siamo qui insieme con clash royale perché porto clash royale perché in questi giorni mi sto chiudendo talmente tanto che devo fare assolutamente un video anche perché qui su youtube va molto questo gioco e subito apriamo i buoni omaggio che non ci troveremo un cazzo sempre sti giganti royale ogni volta è veramente una rottura di coglioni andiamo a fare la sfida classica e dobbiamo andare a viscerne 12 ragazzi ben 12 allora spirito di ghiaccio e io vado con questo così me la metti così proprio io faccio così metta la pinda il culetto dai dai bambi si però mamma ha buttato giù vaffanculo non c'è le cose quindi faccio così dovrebbe andar bene così vediamo un po abbiamo levato un po di vita però dai attenzione attenzione in questo mazzo c'è giocato poco però è abbastanza efficace tanto quello ce l'ha a buttare tutti la io facendo così ora quello abbiamo preso facciamo così però tanto quello butterà qualcosa infatti ha buttato gli scaletri che sono tre dove c'è altri dire quindi potrebbe allora che possiamo fare rilanciare questi dai come cazzo hai fatto mortacci tua vai no cazzo 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 perché vanno tutti la cristo santo dai dai buttatelo giù buttatelo giù vai dai cazzo stiamo ancora dentro stiamo ancora dentro siamo ancora dentro non facciamo niente lasciamo di là quelli gli sfancuriamo tutti vai difendiamo così difendiamo così stiamo andando alla grande color man c'è più cazzo difendiamo no non stiamo difendendo per un cazzo ho perso niente pensavo che l'avevo buttati fuori non ha visto il minatore me l'ha messo al culo questo è il mazzo che avevo utilizzato ora però devo dire che è comunque un costo medio molto basso quindi è perfetto apriamo questo baule d'oro vediamo cosa troviamo oro barbari scelti che non avevo gigante royal ovviamente a manetta torre infernale che non uso mai l'ho usata un po di tempo fa però poi non l'ho più usata se avete un mazzo da consigliarmi scrivetelo nei commenti qui oppure fatto il mega sgherro bloccato questo di mazzo con specchio fireball lo stregone il cavaliere l'orda di sgherri i goblin bilancieri i goblin lanceri il drago infernale e i barbari c'è tutti sti cazzo dei minatori bastardi mannaggia e volevi qui c'è pure lo specchio quindi potrei anche utilizzarlo adesso ma non è il momento adatto farei così e farei così tanto vuoi mettere a qualcosa qua io voglio vado di là e gli avrò un po e il culo e il culo non è vero mai mettiamo qua tanto anche fatto ecco messo dai fireball quindi deve generare ancora un po di elisir quindi possiamo attaccare vai vai massacralo niente ah sì sì dai cazzo ha sbagliato lui questa volta ha sbagliato lui ha messo l'orda di sgherri e le se le l'orda di sgherri l'orda di scheletri scusate vai ok abbiamo abbattuto l'abbiamo abbattuto è bello ce l'ho pure io mi ha buttato giù pure due mortacci tua tanto metto pure questo tanto come metti l'orda di sgherri metto questo vaffanculo vaffanculo sai il vaffanculo quindi aia aia non mi piace ha messo il mondo questo ha messo il mondo e vaffanculo perché può tirare tutta sta roba lui vorrei capire io non posso dire un cazzo incredibile niente rica ho perso pure questa siamo troppo forti siamo veramente troppo forti niente ho perso pure questo mannaggia puttana quello da 100 non lo farò mai veramente perché è qualcosa di illegale anche perché non c'è più le gemme mi mette a carcazzo lo stesso faremo una battaglia semplice adesso faremo questa semplice e poi faremo con l'altra questa comunque dovrebbe essere alla mia portata ok l'ho messo quello io metto questo e metto pure no sì lo metterò prima vabbè no che cazzo è proprio una sfiga ciao porca puttana oggi il problema è che se ci giochi due volte di fila due giorni di fila io non riesco cioè un giorno le vinco tutte il giorno dopo le perdo tutte cioè incredibile come cosa veramente incredibile ecco invece no c'è lo stregone quanto cazzo costa lo stregone uno porco due di lesir mannaggia la troia si va bene altro un'altra roba la pomette guarda metti un'altra roba tanto qua ecco questo gioco non lo capirò mai guarda è peggio di fifa sto gioco è assurdo un giorno ti va a vincere tutti e l'altro giorno il giorno dopo poi ti va a perdere vabbè facciamo l'ultima battaglia con il torneo speed class questo a livello nostro quindi in teoria dovrebbe essere alla pari o perlomeno leggermente superiore a noi in teoria allora facciamo così ma visto che questa quattro facciamo così vediamo un po' questo qua vai oh uno cammino non romper cazzo ecco come hanno detto però ci possiamo portare a casa una torre una bella conoscere una volta da casa dai quanto cazzo ci mette a rigenerarsi sto cazzo di lesir vai eh ma se abbiamo perso pure noi mannaggia mannaggia eh vabbè oh ma non morono questi che cazzo c'hanno no vabbè regà non c'ho a parole non mi si ricaricava dei lesir vabbè ho perso va bene un bel video veramente bellissimo scommetto che è veramente bellissimo vabbè ho perso questa cosa c'era un cazzo come al solito allora faremo l'ultima battaglia qui nell'arena 7 questo qua è il mazzo migliore che ho le ho perse tutte va bene non so chi mette trovo questi trovo questi a posto di questi vediamo un po' allora oh subito 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 allora devo fare così farei così così vediamo un po' che lancia questo dai 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 una torre è stata abbattuta dai come cazzo è possibile non mi ricordavo così forte no vabbè gli scheletrini che mi buttano giù una torre ma che cazzo sta a dio quattro scheletrini erano l'ultimo dai 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 una vittoria ma li va a fare che cazzo vai noi poi puntiamo sulle tre sulle tre corone mi prega un cazzo che perdiamo pure quella non vai fai un po' dei danni vai 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 no bastardo c'è un bastardo c'è un bastardo c'è un bastardo c'è un bastardo eh vabbè vorremmo abbattuto un'altra torre questo ne la posso metter eh mo te la fa difficile mo si fa abbastanza complicata questo me liava quattro cosiclo così va intanto per esempio mi fa un cazzo esce così ok dovremmo riuscire in teoria vai 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 no bastardo stronzo bastardo infame sono stronzo bastardo infame sono stronzo bastardo infame vai vai spacca tutto no vabbè no non mi sta a piacere sta cosa non mi sta a piacere questo no 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 abbattetelo 435 punti no vabbè nemmo fa un'altra abbiamo una corona per aprire questa cazzo di baule dai mega sgherro tre moschetti eri che non avevo ok io boh mi ricordo barbari scelti 52 ci possiamo anche andare a potenziare a potenziare ci andiamo a potenziare subito riproviamo riproviamo questo video sarà lunghissimo non mi frega un cazzo dobbiamo vincere almeno una cazzo di battaglia e sbuffete così si fa così allora vediamo un po' questo che mossa farà ah madonna no 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 subito fatelo fuori fatelo fuori subito oh niente mortacci 2 a sto stronzo ok allora noi tanto quello avrà speso tipo 7 chiedi sì in teoria dovrebbe essere quella la carta ho sbagliato mannaggia la troia ormai quella ho perso le torre porca troia come fanno gli altri ad avere subito 5 di sir dopo 2 secondi che hanno messo la peggio gente ma ti rendi conto come cazzo ha fatto a mettere quel stronzo l'albore capì boh vai sparagli no ok madonna mia questa bacca da sotto vai vai dai forza niente vai 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 ti prego buttatevi giù buttatevi giù non ci credo l'avevo perse tutte che schifo che schifo ma dai 1988 un'altra volta vabbè vabbè ragazzi questo video è finito spero che vi siate divertiti io mi sono veramente brutto il cazzo perché cioè abbiamo perse tutte abbiamo perse tutte l'abbiamo perse manco una leggenda l'abbiamo trovata in baudi questi qua di merda vabbè ragazzi spero che vi sia piaciuto se avete consigli per migliorare questo mazzo oppure questo mazzo in descrizione mi raccomando nei commenti e niente come al solito lascio in descrizione fanpage di facebook e cale Twitch e ci sentiamo e nel prossimo video bella ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti